Buongiorno a tutti, benvenuti e ben ritrovati come sempre in un nuovo video sul mio canale. Quest'oggi video Tire List, nella quale andrò a fare una sorta di pagellone dei primi 50 giocatori al mondo. Quest'attare sono i primi 50 al giorno 1 aprile 2023, però comunque sia, i giocatori principali di questa stagione tennistica. Prima di passare come sempre al video di oggi, il mio video è quello di iscrivervi al canale, in questo momento ci troviamo a 200 iscritti, cerchiamo di salire più in alto possibile per quanto riguarda le iscrizioni. L'obiettivo è di raggiungere 300 iscritti il più possibile, poi vi invito anche a condividere il video a più persone possibili, mi raccomando non dimenticatevi di farlo perché è fondamentale per la crescita di questo canale. Poi condividetevi, questo ce l'ho detto, vi chiedo perdono, vi invito anche a lasciare un commentino per la vostra e se non l'avete fatto di lasciare un bel like di supporto per il canale. Allora, Tire List dei primi 50, io voglio inglese, non me ne frega niente l'italiano e basta, cioè non lo capisce, è stupido. Allora, adesso vi vado a creare le categorie e dopo iniziamo subito. Queste sono le mie categorie, ve le elenco e vi spiego il motivo per il quale ho scelto quest'ultime e vi do anche la definizione di mia categoria. Partiamo da Goat, Goat sono proprio i giocatori d'elite che prendo appunto la categoria, infelio proprio Goat è proprio il livello massimo e il picco. Elite, altissimo livello, grandissime stagioni, bene, ovviamente i ragazzi si baseranno su, cioè, in basso sì su chi sono stati i più forti di questa stagione, anche sull'aspettativa, insomma, verranno prese in considerazione tante cose. Elite, quei giocatori che hanno avuto una grande stagione, Buono, quei giocatori che sono dei buoni giocatori e che stanno avendo una buona stagione, Me, stagione così e così, Male, stagione negativa, Incubo, disastro, NC, proprio non hanno giocato quasi. Esempio, Nadal o Cilic, che ho visto adesso che stanno avendo là. Queste sono le categorie di giocatori che ho scelto, accanto a me, voi in questo momento non mi state vedendo, mi munisco di Race per le Finals ATP, mi munisco della Race per le Finals Race Live e adesso siamo pronti per valutare, valutare questi tenisti. 3, 2, 1, via! Allora, Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz in questo momento si trova alla terza posizione della Race per le Finals e sta avendo, secondo me, una grande stagione. Io resto della mia idea, per me la stagione di Alcaraz al giorno d'oggi è una grande stagione. E questo senz'atto. Il problema principale del Morsiano sono i problemi fisici. Gli è stata preclusa la possibilità dai suoi infortuni di disputare tornei importanti, come sono il torneo, come è l'Australian Open, grande slam. Come è Monte Carlo, Masters 1000, ha saltato anche Acapulco, non dimentichiamoci, è rientrato. Acapulco è stato dopo Buenos Aires e Rio de Janeiro. È rientrato nella doppietta sudamericana, su terra battuta, prima a Buenos Aires e poi a Rio de Janeiro. Dopo ha fatto il Sunshine Double, ha saltato Montegardo a causa di un problema fisico, ha fatto Barcellona, Madrid, Roma, Parigi. Lo ha giocato, ma è quasi contabile come saltato, perché alla fine della semifinale l'ha giocata infortunato. Questi problemi fisici, secondo me, gli hanno precluso la possibilità di essere ancora numero nel mondo e di essere numero nella race. Credo che, o comunque sia, gli abbiano complicato la faccenda per quanto riguarda Vetta nel ranking. Però, secondo me, la sua stagione merda di essere classificata a Goat. E adesso vi spiegherò anche il motivo, perché questo giocatore in questa stagione ha disputato solo 8 tornei. Infatti ha disputato, ve li ordino cronologicamente. Partiamo dal primo, il 2.50 di Buenos Aires e lo ha vinto. Il 500 di Rio de Janeiro e ha perso in finale da infortunato contro Cameron Norrie, che poi gli è costata la partecipazione nel torno di Acapulco e ha ritardato il suo rientro sui campi veloci. Poi ha giocato in New Wales e lo ha vinto. Poi ha giocato Miami, ha fatto semifinale, ha perso la Sinner. Ha giocato Barcelona e l'ha vinto. Ha giocato Madrid, lo ha vinto. Ha giocato Madrid, è uscito da Marostan al secondo turno, Marostan. E poi Parigi e ha fatto semifinale. Quindi in qualsiasi torneo, a parte il torneo di Roma, almeno ha fatto semifinale. E nelle due occasioni in cui ha perso in semifinale, ha perso da, forse, Mio Sinner di sempre e da Djokovic. Ragazzi, Goat. Per quanto mi riguarda, la sua stagione merita il Goat. Felix Augeliassim. Bene ragazzi, di Augeliassim in quest'annata si è a poca traccia. È vero che pure l'hanno passato fino a, fino a, la stagione indoor di fine anno. Non è che avesse fatto chissà quanto bene. Poi però ha ottenuto una carrellata di risultati positivi che gli hanno consentito alla fine di qualificarsi alle Finals e di arrivare alla sesta posizione del ranking mondiale. La stagione di Felix Augeliassim è una stagione sottirata, è una stagione la quale non mi sta piacendo e credo che anche lui non si è soddisfatto della sua stagione. Sa di fatto che gli infortuni hanno precuso le possibilità di disputare tornei, sta avendo problemi fisici. Anche lui ha saltato Monte Carlo, ha saltato adesso anche il Quinza. Si è ritirato proprio ieri, se non va tirato, anzi oggi credo. Insomma, uno degli assenti di questa stagione in realtà, perché sta giocando poco. Adesso vi dico dove è nella race, 31esimo nella race. Insomma, ragazzi, non è una bella posizione, cioè un giocatore del suo calibro non ti aspetti che sia così in basso. Quindi io onestamente lo classifico in male, perché la sua stagione è una stagione negativa. Incubo no, perché Incubo non è proprio un Incubo. Incubo è peggio e ci arriveremo dopo, purtroppo. Però è una stagione sicuramente non del suo livello. Ci aspettavamo qualcosa di più da Augelli e Sim e i risultati di quest'annata, come detto, sono deludenti anche a causa dei problemi fisici. Sebastian Baez. Sebastian Baez. Ragazzi, Baez è ventottesimo nella race. Io, per i suoi standard, lo metto in bene, non ci possiamo aspettare tanto da Baez. Baez è un giocatore che, come il Peke, per l'appunto, non è alto, ma questo non ti preclude la possibilità di essere un tennista. Però sicuramente svantaggioso per molti fattori. Per carità, sei più veloce, sei più leggero, però sei meno potente. Quindi Baez non sta avendo una stagione ineccepibile, per carità, ma vi sei considerato i suoi standard. Io la sua stagione la considero come buona. I risultati che ho ottenuto sono positivi. Quindi, comunque sia, è un giocatore che, secondo me, non dall'occhio, ma su terra battuta è sempre uno di quei cagnacci, come li definisco io. Lo so che è un despregiativo. Dispregiativo e non è un bel termine, però contestualizziamo il termine cagnacci in un campo da tennis. È un cagnaccio da terra battuta. E su terra battuta non ha reso male. Sta avendo una buona stagione. Quindi, secondo me, la classificazione bene è la più adatta a lui. Basila Shvili. Beh, ragazzi, io di Basila Shvili non ho più traccia da decenni. No, decenni è un iperbole. Però di Basila Shvili, onestamente, non ho più traccia da molto, molto tempo. Sto scorrendo nella race, ma io, ragazzi, onestamente non lo trovo nemmeno nei primi cento. Beh, che dobbiamo dire di Basila Shvili? Eh, ragazzi, Basila Shvili. Bah, Basila Shvili. Cioè, che boh. Fatemi vedere un attimo che è stato ottenuto, perché io, onestamente, ve lo giuro, Basila Shvili. Basila Shvili. Cioè, dov'è? Dov'è quest'uomo? Dov'è? 263esimo al mondo. No, ragazzi. Cioè, Basila Shvili, ma? Questo stava nel primo in 50? Siamo seri? Bah. L'1 aprile 2023 stava nel primo in 50, quest'uomo? Beh, ragazzi. Che dobbiamo dire se non NC? Non appartiene a questo livello di darlist, ragazzi. Un intruso. Non è possibile che stava nel primo in 50, questo giocatore. Non ci credo. Ci credo nemmeno io. Non è normale. Basila Shvili. Vabbè. Bah, vabbè. Lasciamo stare questo intruso. Mamma mia, tosse. Allora. Roberto Bautista Aguto. 46esimo nella race. Beh, ragazzi. Beh. Bautista Aguto va verso i 35 oppure ne ha già 35. Non lo so. Adesso ve lo dico subito. Comunque sia, non sta avendo una grandissima stagione. Pure lui è un altro di quei cagnacci da terra battuta. 22esima posizione mondiale nel globo. Giocherà a Dalle. Giocherà in quel di Alle. Per l'appunto. Il ragazzo giocherà a Dalle, come detto. Contro Variglia. Allora, giocherà a Dalle. Però parliamo dei suoi tornei. Mi chiedo scusa un attimo per il blocco. Allora, partiamo. Roland Garros, secondo turno, perso da Variglia. Roma, secondo turno da Cecchinato. Madrid, perso da Khashanov. Barcelona, perso da Alcaraz. Monte Carlo, perso da Zvere. Ragazzi, per quanto mi riguarda la stagione di Roberto Bautista Aguto, va anch'essa in male. Ci saremmo aspettati qualcosa in più. Buono l'Australian Open, perché comunque sia quarto turno. Era partito bene anche ad Adelaide, ad Adelaide, raggiungendo una finale. In realtà nel primo Adelaide non è arrivato in finale. Però non era partito malaccio quest'anno con il tour australiano. Però poi non è che abbia giocato chissà quale tennis, chissà quanto bene. Soprattutto su Terrabattuto, secondo me, non ha espresso il suo miglior gioco. Lo classifico in me, perché comunque sia in male abbiamo Argelia e Sim, che ha fatto peggio. Considerati più standard, considerati il calibro del giocatore, però pure Roberto Bautista Aguto ci potevamo aspettare qualcosa di più assente sul rosso. Ragazzi, Matteo Berrettini, incubo. Mi dispiace, è un incubo sia per lui, è un incubo per lui. Per noi non tanto, perché comunque sia non siamo, non sappiamo, non sappiamo che quello che sta provando intimamente. Settantanovesimo nella race, ragazzi, questa stagione di Berrettini va catalogata in incubo. Si sta parlando di un'annata assolutamente negativa. Berrettini non riesce a giocare partite, è un dato di fatto. Cioè, se Berrettini si ritira dal Queens due volte campione uscente, ragazzi, significa che c'è un problema. Prima partita su Erba stagionale, 6-1, 6-2, 6-1 da Sonego. Cioè, un parziale indegno per un giocatore del calibro. 6-1, 6-2. Un parziale indegno per un giocatore del calibro di Berrettini. Mo, Monte Carlo, il suo unico buon torneo. Contro Gressi, buona vittoria. Contro Serundolo, bella vittoria. Stava trovando la forma, infortuni degli addominati. Si ritira dall'ottavo di finale con Rune e poi non gioca, poi torna stoccata. Salta tutta la stagione sul rosso. Miami perde da McDonald's, da Phoenix. Esce contro Shevchenko. Cioè, ragazzi, la stagione di Berrettini è un incubo ed è un incubo anche perché non sta praticamente mai giocando. Mai, mai. A TP Cup non è che abbia giocato mai una notte. Il United Cup non ha giocato male perché comunque sia batti Rude, batti Urkac, vai al terzo con Sizi per la partita nella quale ha avuto chance. E poi con Phoenix perde in due, ma in due Typrek. Non è che stia a giocare, non è che... Cioè, solo la United Cup si salva. Primo torno allo Strenope. Questa stagione di Berrettini, per prestazioni e soprattutto per problemi fisici, va catalogata assolutamente in incubo. Stagione da dimenticare fino ad ora per Berrettini. Vediamo se non riuscirà a rigirare la frettata. Mi auguro di sì, anche se la cosa secondo me è improbabile. Secondo me Berrettini sta già pensando alla stagione 2024, ma più che altro non è qua a pensare alla stagione 2024. Qua, ragazzi, è trovare un metodo per non farsi così tanto male. Come detto e ribadito nell'aile del salottino, Berrettini è un Del Potro un po' più scarso. Questo, ragazzi, è Berrettini. Fragilità fisica allucinante. Dritto, fenomenale, gran servizio. Del Potro ce n'aveva anche un rovescio un po' migliore di quello di Berrettini. Però sono due giocatori comparabili, a mio avviso. E questa annata di Berrettini, in maniera più assoluta, non rispecchia i suoi livelli. E ha giocato veramente pochissimo. Quindi io lo classifico qua. Chi è costui? Bah! Non lo so. Brukspy! Brukspy! Allora, Brukspy, ragazzi, questo qua lo vediamo dopo. Non lo so, non so chi sia. Onestamente non l'ho in mente. Brukspy! Allora, fatemi vedere cosa ha fatto Brukspy, perché onestamente non me ne ricordo tutti. Brukspy è centesima al mondo spaccato. Ragazzi, Brukspy va in N.C. Ha giocato l'Australiano per il terzo turno, battendo Rude. Bella vittoria. Ha giocato il tour australiano in Nuova Zelanda, ha giocato anche. N.C. Perfetto. Bublik, lo showman. Alle volte si impressionifica in spaccaracchette anche. Bublik. Bublik, ragazzi, Bublik, in che va? Cioè, c'è da capire anche una cosa per quanto riguarda Bublik. Chi non è un giocatore che ha un'attitudine seria? Parliamoci chiaro. Non è quel tipo di giocatore. Cioè, non è un giocatore che si mette là a giocare. È un intrattenitore. È un po' un discepolo, sentiamo che terminologia, di Mansur Barami. Ragazzi, qua, Bublik. Bella, bel torneo a Marsiglia. Ragazzi, Bublik. In questo momento non so in che posizione classifica si trovi. In che posizione della race si trova Bublik. Questo è da capirsi. È da capire, scusate. Bublik si trova. Bublik dov'è? Dove sei, amico mio? Bublik. C'è, ragazzi. Pure qua. Non è da NC, perché è il novantasettesimo nella race. Ragazzi, che dobbiamo dare a Bublik? Non gliene frega molto, eh. Sì, me. Me, ragazzi. Da Bublik non ti aspetti molto, perché sai com'è fatto Bublik. Però, ragazzi. Non è che stia facendo sti straordinari. Quindi, alla fine, per me, me è la classificazione più adatta. Non gli do ne più, nemmeno. Grande intrattenitore. Però, ragazzi, che dobbiamo dire a Bublik? Più di questo, ragazzi, più di me non merita, secondo me. Anzi, forse meritava anche male. Io gli do a me, perché le mie aspettative su Bublik sono poche. Conoscendolo, non ti aspetti tanto da uno come Bublik. Caregno Busta, ragazzi. Caregno Busta, il bustone. Caregno Busta, ragazzi. NC, anche lui, come Nadal, tale e quale. Non ha giocato quest'anno. Di chi parliamo, scusatemi? A Deleid. Una partita, due partite alla Stranopoli, una partita a Rotterdam. Infortuni su infortuni. Ragazzi. Ragazzi, che dobbiamo dire? Caregno Busta, giocatore inattivo da mesi. NC, non ha giocato. Cilic, NC, non ha giocato una partita in India. A Pune, tipo, prima settimana dell'anno. Non ha fatto più niente. Non si è più visto. Infortuni. Maxim Cressi. Allora, Maxim Cressi. Vediamo, ragazzi. Cressi, onestamente, adesso è 40 al mondo. Ma sta in una forma infima. Allora, giocherà con Rune su Erbo. Una partita, secondo me, ostica per il danese, anche se Cressi non è in gran forma. E questo potrebbe sicuramente aiutarlo. Perché un giocatore dà le caratteristiche di Cressi per uno come Rune, su terra battuta, che è ancora molto inesperto. Il danese, per me, è un giocatore più che ostico. Ragazzi, Cressi su terra, vabbè. Lo sapevamo che non avrebbe fatto niente. Insomma, perde con Peglia a Roma. Perde da Vavre in Camadrid. Perde da Hofner al primo turno a Parigi. Poi a Monte Carlo perde da Berrettini. A Marrakesh perde. Cioè, ragazzi, non ti puoi aspettare niente da lui su questa superficie. Però pur sostanzialmente non è che sia stato straordinario, dimmela tutta. Ragazzi, io non so che dirvi, ma questo va in male. Va in male. Non ha fatto niente quest'anno Cressi. È 40esimo al mondo. Perché avrà appunto di difenda nella seconda annata, non lo so, nella seconda parte di stagione. Però, fino ad adesso, onestamente, non è che mi abbia convinto chissà quanto. Non ti puoi aspettare tanto da uno come Cressi, per carità. Soprattutto con uno stile di gioco come il suo. Il suo unico grande torneo è stato Montpellier, dove è arrivato in finale. Contro Sinner. E poi ha soccombuto come... No, soccombuto no, ha perso. Bah. Dai. Vi chiedo scusa per, intanto, la roba là dell'aggiornamento. Fa parte della diretta, come si dice in gergo. Più di me, ragazzi, non va. Ve lo dico proprio in massima... Con la massima sincerità e schiettezza possibile. Davidovic Fochina. Bene, ragazzi. Davidovic Fochina... Davidovic Fochina in questo momento... È... Quarannosi. In questo momento è il 26esimo nella race. Bene. Onestamente l'ho visto bene a Parigi, che ha... Glottato due sette ad armi pari contro Djokovic. L'ho visto bene a Parigi. Sulla terra abbattuta è un giocatore sempre molto molto ostico. Bella vittoria su Rune a Madrid. Buona stagione finora di Davidovic Fochina. Che in questo momento si trova alla posizione numero... Credo 20 e qualcosa. Da 33 del ranking. Presa la posizione nell'ultima settimana. Ragazzi. Davidovic Fochina... Sta avendo una gran stagione per quanto riguarda. Non è stata avendo una brutta stagione. Soprattutto se consideriamo l'exploit di Montegato dell'anno scorso... Che gli ha tolto 600 punti. Che era scontato che li perdesse. È approbabile. Perché io onestamente, un giocatore dal calibro di Davidovic Fochina... Non mi aspetto... Che riesca a replicare una finale in quel di Montegato... Per quanto sul rosso sia un giocatore di alto livello. Non mi aspettavo che riuscisse a replicarla. E così è stato. E... Niente. Buona, buona stagione. Buona... Ragazzi. È un grandissimo lottatore. È un grandissimo lottatore. Spirito spagnolo che non molla mai. Spirito nataliano. Bella stagione finora. Che dire, ragazzi. Buona, buona stagione da parte di questo giocatore. Deminar. Alex Deminar. Allora. Deminar. Deminar. Ragazzi. Deminar lo mettiamo in bene. Anche lui è un altro giocatore che sta avendo una buona stagione per quanto riguarda. In questo momento si trova alla sedicesima posizione. Della race. Cosa vanta questa stagione di particolare? Allora. Nella Stradian Open ha ottenuto un quarto turno. Poi. In quel di Acapulco. Ha ottenuto. Ha vinto il titolo contro Frenzy. Contro. Tommy Paul in finale. Quindi secondo me questa stagione di Deminar è buona. Sulla terra battuta non è che abbia fatto chissà che cosa. Ma onestamente io da Deminar mi aspettavo poco sul rosso. Infatti andiamo un attimo a menzionare i risultati del giocatore australiano sulla terra battuta. Secondo torno in quel di Parigi. A Roland Garros. Sconfitta con Fusciovic a Roma. Sconfitta a Madrid da Carazza dopo aver battuto cecchinato. Si ferma ai quarti di finale di Barcellona. Però nel turno precedente era passato. Nel turno precedente aveva vinto contro Deminar a tavolino. Qui contro Deminar a tavolino. Però non ci interessa. Sperto contro Struffa. A Monaco l'inizio dell'ascesa di Struffa. Gran torneo in quel di Acapulco come ho menzionato precedentemente. Per il resto non una stagione chissà quanto più santa. Secondo me dobbiamo anche considerare il livello del giocatore. Da Deminar non ti puoi aspettare sempre a titoli. Come ti puoi aspettare da un gioco vicino a Carazza. Quindi credo che sia giusto classificarlo in bene. Perché fino ad ora ha avuto una buona stagione. Ragazzi Dimitrov. Allora vediamo Grigoro Dimitrov. In questo momento si trova alla 26esima posizione del ranking mondiale. E allora classifichiamo. Parliamo della sua stagione. Dall'altro è un fatto interessante. Alquins ha giocato alle qualificazioni perché si è dimenticato. Si è iscritto troppo tardi. Beh complimenti che gli possiamo dire. Allora quarto turno a Roland Garros. Non un brutto risultato. Finale con Gerry dopo proprio tutto Fritzen. Nel turno precedente in quel di Geneva. Su terra battuta. Poi a Roma perde da Djokovic. Perde dal Carazza Madrid. Perde da Deminar. Vabbè questo tavolino l'abbiamo menzionato prima con l'Australiano. In quel di Barcelona perde a Montecardo. Da Lechka. Poi perde da Sinner in quel di Miami. A Innan Wells perde da Kubler per il ritiro. A Marsiglia perde da Bublik. Insomma a Rotterdam perde da Medvedev. Poi abbiamo all'Australian Open perde da Djokovic al terzo turno. Futuro vincitore. United Cup. Vittoria su Goffin. E sconfitta su Tsitsipas. Ma risala il 29 dicembre 2022. Quindi non conta su questa. Sul 2023. Stiamo là insomma. Nella race trova il 22esimo. Ragazzi. La stagione di Dimitrov è quello che ti puoi aspettare da un giocatore del suo calibro. Del suo calibro a questa età. È un gran giocatore. È un giocatore che in passato ha reso molto bene. Però al giorno d'oggi non è più uno di quei top. E secondo me la sua stagione. Considerando i suoi standard. In bene la possiamo classificare. Non è che ti aspetti chissà quanto. Da uno dal calibro di Dino. Io onestamente non mi aspettavo molto. Mi aspettavo una roba del genere. Comunque si ha perso i giocatori. A lui chiaramente superiori. Djokovic al Carassa. Al Carassa a Madrid. Lottando un set. Djokovic a Roma. Djokovic sia all'Australian Open. Lottando un set. Ma poi ha perso in tre. Sia a Roma. Dove ha vinto un set. Però insomma la Djokovic si era innervosito. Quindi c'è da capire quanto c'era di suo. Che sicuramente ha alzato il suo tennis. Ha iniziato a colpire righe. Che non esistevano. Si è inventato delle righe. Che prima non c'erano. Che poi alla fine non l'hanno portato a vincere. La partita però comunque si è vinto il set. Ha messo in serena difficoltà. Ed è stato un grande spavimento per Djokovic. In quel di Roma. Poi alla fine si è. Ha perso. Perderà Djokovic da Rune. Bene. Perché onestamente mi aspettavo questo. Sta mantenendo le aspettative. Ma niente. Ragazzi Djokovic stagione da Goat. Secondo me. Cioè non è che c'è tanto da dire per quanto riguarda Djokovic. No. Adelaide vince salvando match point in finale concorda. Australian Open domina qualsiasi tipo di avversario. Con uno strappo muscolare sulla gamba. Che c'è da capire quanto abbia influito. Perché se. Non è che ha influito tantissimo alla fine. Se riesce a dominare tutti. Perdendo un solo set. Non è stato un infortunio invalidante. È stato un infortunio che. Ti avrà messo in difficoltà. Dei fastidi. Però un infortunio con il quale tu comunque si è potuto giocare. Gli va dato merito. Perché vince un grande slam. Con o senza problema fisico. È da fenomeni. Vince quel grande slam. Poi a Dubai pertenza in finale da Miedvedev. Stagione su terra. Inizio negativo. E stagione su terra. Per Roland Garros. Molto negativo. 5-3 record. Assolutamente non degno di un giocatore del suo calibro. Probabilmente un giocatore che statisticamente parlando. Rientra in una galassia tutta sua. Poi Monte Carlo. Perde agli ottavi di finale con Musetti. Baglia Luca perde ai quarti di finale con Lajovic. Dopo aver faticato molto con Vanash. Aveva faticato anche con Gakov. In quel di Monte Carlo. Un giocatore qualificato. Che non aveva nemmeno il completino per giocare. Il completino gli è stato dato gentilmente da Andrei Robloff. Suo connazionale. Poi Madrid dello Salta. Per un via di un fastidio al polso. Pula fisico al polso. Gioca Roma perde ai quarti di finale da Riune. Perde male. Se Riune non avesse avuto quel callo. Ma come sempre. If doesn't exist. La partita si sarebbe chiusa in due parziali. E poi Roma. E scusatemi Parigi. Resuscita come possiamo dire. Vince anche con Tarcaras. Secondo me ha aiutato dai campi. Dai crampi. Il resto della media non avrebbe vinto. Però gli va dato atto. Perde solo i due set. Bravissimo nei tieprick. Nei tieprick si vede. Il vero Djokovic. Che non ha mai fatto un errore non forzato. In tutti i tieprick di Roland Garros. E ne ha giocati cinque. Se non vado errato. Quindi ragazzi. Pazzesco. E niente. Un fenomeno d'altro. Un fenomeno d'altro tempio. Un fenomeno di questi tempi. Un fenomeno che è passato da tre generazioni. E che continua a dominare il circuito. Andrà probabilmente verso un 24esimo Wimbledon. E chissà. In ottica grande slam. Ma sicuramente. Ne parleranno. Perché io non credo. Io credo che non ci sarò. Nel sedottino del tennis. Dello io e so. Djokovic. Goat. C'è poco altro da dire. Den Evans. Den Evans ragazzi. Allora. Evans. Parliamo di Evans. Vediamo quello che ha fatto Evans. Sono molto curioso. Onestamente. Perché non è. Io abbia chissà quanti ricordi di Evans. Vi dico la mia più sincera verità. E allora. Evans in questo momento si trova. In posizione. Numero. Lo dico proprio. Precisamente. Perché bisogna essere precisi. Evans in questo momento si trova alla posizione 25 del ranking. Best. No. Best ranking è stato 22. 28 in realtà. 28 classifica ufficiale. In live si trova 25 al mondo. La stagione di Evans. Fina d'ora. Fina d'ora. Rassumiamola. Gioca un challenger. Perde al primo turno a Parigi. Perde a Roma. La Carbagli e Sbaena. Insomma. Su terra. Su terra. Non è che abbia fatto gli straordinari. Buon torneo. in cui arriva a fine sinistro in finale. A Parcellona. battendo anche Serondolo. Comunque sia un giocatore secondo me un po' più forte di lui. Su questa superficie. Sulla terra. Poi a Montecato perde da Ivashka. Gioca Marrakesh. Dove perde da Carbagli e Sbaena. Inizio di dare a battuta. Non è che fosse stato chissà quanto negativo. Poi però. Alla fine. Non è che abbia combinato chissà quanto. E fino ad ora. Secondo me è una stagione che rispecchia. Il suo livello. Non è che ha fatto né più e nemmeno. Io non mi sarei aspettato. Io non mi aspetto molto da un giocatore del calibro di Evans. Onestamente. Stare rispecchiando quello che secondo me è. Il giocatore che secondo me è. Quindi credo che la classificazione adatta sia questa. Né più né meno. Per quanto mi riguarda. A mia personale idea. Non lo classifico più di questo. Perché non lo merita. Non lo classifico nemmeno di questo. Insomma. Lo potrei mettere anche in me. 66esimo nella race. Beh ragazzi. In effetti. Declassiamola a me. 66esimo nella race. Non è che sia sto grande risultato. Ci avrà da dipendere di più nei prossimi tornei. Ma fino ad ora. Non è che abbia ottenuto. Questi risultati straordinari. C'è Muzza qua. C'è Asimare. Serondolo. Mamma mia. 28 minuti. Ragazzi. Sto per dare un malloppo da un'ora e mezza a due. Un'ora e mezza a due. Mamma mia. Mamma mia. Chi vi dà lo ha trovato in questo video. Ma questo è scemo. Cioè. Tu. Tu vuoi. Tu vuoi che noi vediamo un malloppone. Ma va là va. Direte così. Vabbè. Mi metterò la classificazione ovviamente. Come vi di Natale. Perché i pazzi. Allora. Se c'è qualcuno che si vede tutto il video. Io non so come ringraziarlo. Facciamo così. Se c'è qualcuno che vede tutto il video. Ma lo deve vedere. Lo deve avere visto tutto. Però non so come possa scientificarsi. Quindi non lo so. Chi ha visto tutto il video è un grande. Ma non ci sarà nessuno. Che è così pazzo. Se rundolo ragazzi. Francisco se rundolo. Se rundolo ragazzi. In questo momento è diciassettesimo. Beh mica male. Nella race. Ranking mondiale. Si trova nella posizione. Numero. Ve lo dico ovviamente un attimo. Se rundolo. Che professionalità. Inesistente. Se rundolo si trova alla ventesima posizione mondiale. Si parla infatti di best ranking. Beh stavendo la sua migliore stagione. Si mette in bene assolutamente Francisco. Se rundolo. Che è risultato attenuto in questa stagione. Bel quarto turno contro Rune. A Parigi. Poi è sfortunato. Più bravo Rune a vincere il quinto set. Bel torneo a Lione. Nel quale perde in finale contro Fields. A Roma perde con Rude. Ai quarti di finale. Insomma. Stagione su terra male. Mica male. Ma da un giocatore del suo capito dell'aspetta. Perde da Cacin. A Madrid. Perde a Barcellona. Da Evans. Perde da Beretti. Una battaglia. A Monte Carlo. A Miami. Perde da Hashanov. E... Però sta avendo una gran stagione. Poco da dire. Ha avuto una gran stagione. Sta avendo una gran stagione. Soprattutto sulla terra battuta. Ovviamente. Sul cemento australiano. Non è che abbia ottenuto chissà quali risultati straordinari. Ma comunque sia. Non si parla di un giocatore che ha le attitudini da terra battuta. E da cemento. Quindi te lo aspetti. Comunque sia. Si parla di terzo turno. Beh. Secondo me. È una buona stagione. Tutto sommato. Quella di quest'uomo. Mamma mia. Mamma mia. Quanti ne mancano. Taylor Fritz. Ragazzi. Taylor Fritz. Andiamo con qualche bel giocatore da 90. In questo momento 9 nella race. E 8 nel ranking. Andiamo a... Vi vado ad elencare tutti i suoi risultati. Allora ragazzi. Stoccarda perde da Fussovic. Perde da Serundolo a Parigi. Perde da Dimitrov a Gineva. Perde a Roma da Anfman. Perde da Zanga a Madrid. Molta sconfitta. Perde da Van de Zand. Sculpe a Monaco. Perde da Rublio. In semifinale. In quel di Monte Carlo. Poi perde a Miami. Dal Carras. Perde da Sinner. A Indian Wells. Perde in semifinale. Ad Acapulco. De La Rebic. Vince in finale contro Kezman. Vincere a Dallas. Perde contro Wibbing. Perde contro Popper. In al secondo turno. Stare in open da Udente. Però. Nella United Cup. A parte una sconfitta contro Noria. E a parte quello in topo. È stato perfetto. Beh ragazzi. Quella di Taylor Frizz. Onestamente. È una gran stagione. Si conferma sui livelli dimostrati nel 2022. E si conferma un top player. Un giocatore da top 10. E quindi merita l'elite. Per quanto mi riguarda. Elite del tennis mondiale al giorno d'oggi. Taylor Frizz. Ne fa parte. Grandi miglioramenti sotto lo spettacolo. Più pensivo. Grandi miglioramenti nel lato sinistro. È un giocatore in stile statunitense. Grandissimo servizio. Grandissimo dritto. Un giocatore schiaccia sassi. Per quanto riguarda i due fondamentali più importanti del gioco del tennis. Gran stagione finora di Taylor Frizz. Un titolo. Mi è piaciuto molto sotto Erba e tutto. Non mi sarei aspettato chissà quali i risultati da lui. Su quella superficie. Vediamo adesso cosa farà. Nella stagione su Erba. Deve difendere 250 punti a Eastbourne. A Wimbledon. Avrà la possibilità di ottenere tanti punti. Perché comunque sia. Non deve difendere niente. Come tutti i giocatori. Questo sarà un vantaggio. Per gli erbivori. Infatti mi aspetto un Djokovic. Vabbè. Che vince a Wimbledon. Quindi 9595 punti. Ma un Frizz che trarrà vantaggio di questa anomalia. Beh. Finora. Gran stagione di Frizz. Nulla da dire. Grigspur. Allora ragazzi. Stagione di Grigspur. Beh. Che dire. Bene. Assolutamente bene. Molto bene. Non lo posso classificare in Elite. Perché in Elite. È l'Elite del Tennis. Questo qua. Dobbiamo un attimo classificare. Il Tennis del 2023. I giocatori del 2023. Questa è la. Third list. Tennis Players. 2023. Top 50. Questa è top 100. Ci stava anche top 100. Ma a parte che molti non li avevano riconosciuti. E poi ragazzi. Non mi voglio tenere quattro ore. Già con due. Mi vorreste mettere le mani addosso. Se mi vedeste. Però. Io spero che qualcuno. Almeno qualcosa si veda. Lasciate un bel like di supporto. Questa è l'importante. Quello l'ho detto nel primo minuto. Quindi. Insomma. Ci sta. Siete giustificati. Che non siete arrivati al minuto 33. 34. E è qua. Hai voglia. Parliamo di Gregspur. Senza prenderci in chiacchiere. Gregspur. Ragazzi. Titolo. Nell'Ibema Open. A Denver. Derbosh. Vabbè. Spero. L'ho detto. In modo degno. 38esimo. Anzi. In questo momento. Classifica. Live. Si trova alla 30esima posizione. 29esima posizione. Mechia Dovenia. Per questo errore imperdonabile. 29esima posizione. Per Gregspur. Finora gran stagione. Secondo me. Nella race. Vediamo in che posizione si trova. Nella race. Si trova alla 21esima posizione. Che è. Il suo best ranking. Per quanto riguarda. Io credo così. Il suo best ranking. È il 29. Che ha raggiunto. Due titoli stagionali. Il pre. Allora. Il secondo. L'ha vinto. Ovviamente. A Toggenbosch. Nei Paesi Bassi. Il primo titolo stagionale. Invece. È stato vinto. Ovviamente. È stato vinto. In quel. Rotterdam ha perso da. Sinner. Nelle semifinali. Credo. O è quartino. Sì. Nelle semifinali. E. Appune. Ha vinto Appune. Ecco. Dù ha vinto. A Appune. Nella primissima settimana dell'anno. Ha vinto il suo primissimo titolo. ATP. Finora grande stagione di Rix. Spur. Vediamo cosa riserverà per due. Il resto della stagione su. Erba. Gli aspetta. Ci aspetta ragazzi. Queens di fuoco. Wimbledon. Non sarà un Wimbledon di fuoco. Sarà un Wimbledon dominato. Parliamoci che era il tondo. E. Finora grande stagione. Agli esterni. Ho preparato da. Zizi Pass. Un giocatore. Che in quelle due settimane. Ha trovato. Due settimane. Di livello. Elite. E. Anche quasi. Goat. Poi perde. Da. Urkacz. Questa. È. Forse. Sul più grande rimpianto. Perché le possibilità di vittoria. C'erano. Soprattutto contro un Ubi. In questa forma. E. Poi. Nell'Ibema Open. Si è lavorato campione. Nella. Suo. Territorio. Ubi Urkacz. Ubi Urkacz. Ragazzi. Per i suoi standard. Io. Lo devo classificare in. Me. 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 Barra male. Me. Barra male. Me. Urkacz. Quattrodicesima posizione mondiale. Diciassettesima live. Beh. Parliamo di risultati di Urkacz. Perde da Strouf. Da Strouf. In semifinale. A Stoccata. Quindi torna nemmeno malissimo. Perde da Varillas. Al terzo turno. In quel di. Parigi. A Roland Garros. Perde da Wolf. JJ Wolf. Come fai a. Cioè JJ Wolf. Su terra. Ciò vuostare. Perde da. Da Koric. Da Sioric. Lesko Bornalesko. A Madrid. Perde a Monte Carlo. Da Sinner. In una partita lottatissima. Probabilmente la sua migliore partita della stagione. eh. Perde da. Da Ger. Non vince contro Ger. Scusatemi. Perde da Sapata Mirai. E Sesto Hill. Perde da Mannarino. A Miami. Ragazzi. A Miami. Ho ottenuto dei risultati. Ottimi. Nelle ultime due stagioni. E. Quest'anno. Non si è assolutamente neconformato. Poi. Perde da. Paul. Tommy Paul. Che per la stagione che sta avendo. Ci può quasi stare. A Nian Wells. Perde da Gioco. Vuce in semifinale di Dubai. Perde a Marsiglia. Da Urkac. E. Sì. Perde a Marsiglia. Da Urkac. Complimenti. Guarda. Complimenti. Complimenti. Perde a Marsiglia. Da Urkac. Vince contro Bonsi in finale. Questo titolo. No ragazzi. Me ci sta dai. Non sta per una grande stagione. Però. Male è troppo. Male è uno come un G. Che sta facendo che ha fatto peggio. Decisamente. Vabbè. Quarto turno. All'Open. Degli Stati Uniti. Voleva fare qualcosa di più. Magari contro. Sebastian Korda. E. Poi. Rotterdam. Contro Dimitrov. Poi United Cup. Finora. Non è una grandissima stagione di Urkac. Per carità. Però. Addirittura è male. Mi sembra un'esagerazione. Passiamo al prossimo. John Isner. Long John. Ragazzi. Adesso è fuori dai 100. Credo. Il centunesimo al mondo. Ragazzi. Isner. Ha 38 anni. Non ti puoi aspettare chissà quanto. C'è da essere onesti. In doppio si sta concentrando. Giustamente. Ultima. Tra l'altro. Ultima partita. Di doppio di Sok. Un doppio ragazzi. Secondo me. Che sta messo male. Perché comunque sia. Le finali doppie giocano i quarantenni. Capiamoci. Per carità. Forti. Però. Significa che il ricambio generazionale. Qua non c'è. Non c'è. E il doppio ragazzi. Maschile. Sta soffrendo. E non poco. Ragazzi. Non ha praticamente mai giocato. Ad Dallas. Ha raggiunto una finale. Contro Yibing. Yibing. Che ha scritto la storia del tennis cinese. E' quasi da NC. Perché non ha veramente mai giocato. Ha giocato pochissimo. Ragazzi. Isner. Me. Capiamoci. Male. Altro che capiamoci. Non ha fatto niente. Ma. Ci può anche stare. A un'età. Ragazzi. A un'età. Ha fatto quello che doveva fare. Long John. Si tiene a galla. Con il suo servizio. Potentissimo. Però. Più di quello. Non è che ti puoi. Che puoi fare. Non è che ti puoi aspettare. Più di tanto. Chi è quest'uomo? Non lo so. Oh. Che ignoranza. Non so chi sia. Addio. Karatsev. Karatsev sta risuscitando. Dennisticamente parlando. Sta risorgendo. Karatsev ragazzi. 48esimo al mondo. Premi 50. Si è ripreso. Dopo due anni. Fantasma. Dopo due anni. Fantasma. Si è ripreso. Vabbè. Allen. Non lo giocherà. Perché ha perso le quali. Però comunque sia. Ha perso da Fritz. Un giocatore a lui superiore. A Stoccarta. Ha perso da Big Four a Parigi. Ha perso a Madrid. A Madrid a Struff. In semifinale. Dopo averlo battuto dall'altro. Nelle qualificazioni. E. Ragazzi. Bene. O bene o me. Ragazzi. Ha continuato ad essere un fantasma. Fino a. È stato un fantasma. Che era riapparso a Madrid. Vale. Vale. Davide. Me. Allora. Ha avuto dei grandi tornei. Con i quali è tornato. A livelli. Che gli appartengono. Però. Ragazzi. Troppo male. Nel resto della stagione. Per avere una classificazione. Più alta di questa. Non posso darti più di me. Non posso dare più di me. Ragazzi. È un po' come quegli studenti. Mi ci metto anche io. Quest'anno. Che in una materia. Non hanno fatto niente. Fino a aprile e maggio. Dove poi fanno. Ricoprono tutto. Cioè. Più di sei. Non gli puoi dare. Che sennò. Quelli che si sono fatti. Il sedere. Capiamoci. Tutto l'anno. E a loro metti sette. E pure a loro metti sette. Cioè. Un po'. Capito. Quindi. Di più di me. Non gli posso dare. Mi ci metto anche io. Tra quelli. Lasciamo stare. Comunque. Maledetta tosse. Me. Ragazzi. Me. A fine anno. Può diventare anche bene. Tutto qua. Come a scuola. L'anno prossimo. Prendrai anche sette. O otto. Perché. Se continui questo passo. Ce la fai. Comunque. Sì. È la sufficienza. Invadiamo. Salvato. Salvata la. Salvato. Kezmanovic. Kezmanovic. Mio Mir. Kezmanovic. Che giocatore. Ragazzi. Kezmanovic. Uno spirito. Un po'. Capito. Uno spirito. Non so nemmeno come definirlo. Best ranking. 27. 39esimo. Posizione. Attuale. Nel live ranking. 40esimo. Quindi. Ulteriore. Posizione. Persa. E. Sto parlando come un pazzo. Ma sono pazzo. Probabilmente. Quello è un altro discorso. E. Allora. Perde da Raonic. Nell'Ibema Open. Parigi. Ma ragazzi. Me. Ve lo dico subito. Vedendo i risultati. Perde la Dreyper. A Lione. Da Vassori. A Parigi. Da Fognini. A Roma. Da Garin. A Madrid. Da Lajovic. A Baglia Luca. Vince. Il primo turno contro un giocatore sconosciuto. Perde a Musetti. 7-6-6-0. Il primo dei tre bagel consecutivi rifilati. Da parte del Muso. Poi. Perde da Rude. A Destoril. Primo e unico titolo stagionale per il norvegese. Perde. E. No. No. Si. Perde da Rude. Rude. Dopo aver raggiunto la finale. Mi piace questa pronuncia. Berto Luciana. Kezmanovic perde da Rubla. Va a Miami. Poi perde da Vavrinca. A Indian Wells. Perde da Sciapovallo. Va ad Acapulco. Perde da Dele Rebicci. Da Taylor Fritz. Nella finale. E. Ha avuto delle chance. Oddio. Ha avuto delle chance. Solo il secondo set. Gli altri set. È stato un massacro. Poi. Abbastanza. Fantasma. Anche la Senua. Per poi dal primo turno. A Deleid. Non è che giochi male. Ragazzi. Più di meno. Gli do. Qualche buona. Torneo. Qualche buon torneo. Ma per il resto. Poco. Poco. Meh. 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 Ma mi rende nei banchi. Meno probabilmente. Harren. Hashanov. O Hashanov. Non lo so se si aspira. La C. La C. Hashanov. Io. Il dubbio. L'aspiro. Hashanov. Ragazzi. Ragazzi. Hashanov. Si trova. Allora. Decimo al mondo. Decimo nella race. Primi 10. Elite. Elite anche lui. Le sue corse. Le sue. Non le sue corse. Le sue. Prestazioni. Grande slam. Non sono una coincidenza. Io. Dopo. L'ospini. Aspettavo. Beh. Questo è un caso. Una casualità. Che Hashanov. va a riprire. Inciutto la semifinale. Invece non è una casualità. Perché adesso si ritrova a decima al mondo. Tornato nei primi dieci. Dopo quattro anni. Se non sbaglio. Adesso perderà. E. Scenderà all'undicesima posizione. Dopo questa. Scenderà all'undicesima posizione. Dopo. Dopo la vittoria. Dopo la vittoria di Tiafos. Toccarta. Vittoria che gli consente di spodestare. Hashanov. Però. Secondo me Elite merita la sua stagione. Perché sta prendendo una grande stagione. Secondo me Hashanov. Non possiamo non classificarlo. Cioè. Secondo me merita questa classificazione. Decimo nella race. Decimo in classifica. Buona. Buona prestazione di Hashanov. Buona prestazione di Hashanov. Stavo dicendo. Buona annata di Hashanov. Bene risultati in tutti i tornei. Perde in semifinale da Alcaraz. In quarti finale da Alcaraz. A Madrid. No ragazzi. Sta giocando bene Hashanov. Sta giocando molto molto bene. Per questo. Per me merita questa classificazione. Semifinale da Strenop. In quarti Roland-Gross. Quarti a Madrid. Tutti. Tornei nei quali gioca bene. Nel giocatore più consistente nel circuito. Che ogni torneo che gioca arriva sempre nelle fasi finali. Che vuoi dire? Un tipo come Hashanov in questo 2023. Elite. Meritato. Per quanto mi riguarda. Poi passiamo a quest'uomo. Che è Lajovic. Credo sia Lajovic. Mi auguro di non star sparando una castroneria. Duzjan Lajovic. È Duzjan Lajovic. Allora. Lo metto in bene. Ultimo periodo. Mè. Però. Bayeluca. Vittoria. Titanica. La definirei. Djokovic. Djokovic. E stromette. E stromette. Dal torneo. Il numero. Dal mondo. Dalla testa di serie. Numero 1. Dalla testa di serie. Numero 1. Djokovic. E stromette. Dalla testa di serie. Numero 2. Andrej. Rubliov. In finale. In una finale. Pazzesca. Due ore e mezza. Di puro tennis. Un Rubliov che veniva da un successo. In quel di Monte Carlo. Beh. Ragazzi. E fin da dopo. Sta avendo una gran stagione. Pure a Miami. Non è che si sia comportato male. Secondo me. La stagione di Lajovic. Finora. È una buona stagione. La metto in buono. Non si vale che un fuori classe. Però un giocatore che fin da ora. Si sta dimostrando. Un gran giocatore. Per cui. Di conseguenza. Secondo me. Merda. Buono. Né più. Né meno. Fino ad ora. Si parla di una grande stagione di Lajovic. Fino ad ora. Si parla di. Un buon Lajovic. Che è stato protagonista. Nel circuito. Almeno. Per quanto riguarda. I suoi livelli. Perché alla fine. Protagonista. Nei primi dieci. Non c'è stato. Ma ovviamente. Non ti puoi aspettare. Che Lajovic sia. Nei primi dieci. Kyrgios. Nc. Che. Una partita. Non posso giuricare Kyrgios. Se vi dico. Rientro di Kyrgios. Miedvedev. Miedvedev ragazzi. E. Compone. E. Ultima. Il terzetto. Che va in Goat. Danil Miedvedev. Stagione. Del riscatto. Questa doveva essere. Io l'ho pronosticato. No. Non sono sbaglio. All'inizio di stagione. Al momento. Mi sbaglio. È vero. È incappato. In due brutte sconfitte. Nelle ultime due partite. Una contro Mannarino. A. A. De Nort. Vabbè. Nell'Ibem. 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 Contro Sebo Twilt. Il brasiliano. Quel brasiliano maledetto per lui. Che lo ha sconfitto in primo turno dei Roland Garros. Secondo me torno nel quale poteva fare bene. Però ragazzi. Cinque titoli. Di cui tre di fila. Stagione di mezzo. Secondo me. Grandissima. 19 vittorie consecutivi. Che sono partite a Rotterdam. Titolo importantissimo per lui. Che ha svoltato completamente la sua stagione. Cinquecento di Rotterdam vinto. Battendo in semifinale Sinner. Due set da muro. Poi. Doha. Batte Mario in finale. Due titoli di fila. Tre titoli di fila. Battendo Djokovic e Rubliov consecutivamente. Questo a Dubai. Finale. A Indian Wells. Vittoria. A Miami. Quarto di finale a Monaco. A Monte Carlo. Ottavo di finale a Madrid. Vittoria a Roma. Cioè. Ha vinto su terra un Masters 1000. Pazzesco ragazzi. Poi. Due sconfitte deludenti. Però credo che. Su uno swing americano. Vedremo il Medvedev. Che vi ho visto. Nel cemento quest'anno. E anche su terra. E. Non quello visto a Parigi. E. Nell'Ibem Open. Ragazzi. Sta avendo una stagione pazzesca. Negli slam ha reso male. Perché comunque sia terzo turno. Alla String Open. E primo turno. A Roland Ross. Vediamo che fra Wimbledon. E soprattutto lo US Open. Particolarità di Medvedev. 20 titoli in carriera. Nessun doppione. Questa ragazzi. È una gran particolarità. Che onestamente. Uno come Danil. Del suo calibro. Dici strano. Cioè. Vuole fare la collezione. Sta facendo una collezione ghiotta. Una collezione ghiotta. Che comprende. Sei. Masters 1000. Se non vado errato. Uno slam. Una. Le finals. Comprende. Gli mancano. Tre slam. Tre finals. Sì. Tre mille. Gli mancano. Dei tornei. Però comunque sia. Sta. Creando una bella collezione. Che quando. A 40 anni. Si ha ritirato. Diceva. Beh. Qua. Li ho vinti tutti. Fantastico. Credo che se lui dovesse vincere un doppione. Di un mille. In uno slam. Non gli dispiace. Mettiamola così. Goat. Ragazzi. Per questa stagione. Merita il Goat. Chi è quest'uomo? Chi è? Chi è quest'uomo? Aspettate. Bah. Non lo so. Non sono sicuro. Potrebbe essere Hiron. Però. Non ne sono sicuro. Quindi non lo giudico. Gael Monfields. Monfields. Ragazzi. Monfields. Che ve ne pare di Monfields? La Monf. Ragazzi. Monfields. Pure lui. Ha giocato a tennis professionistico. Quest'anno. Sconfitta con Thompson e Ian Wells. Sconfitta a Phoenix contro Shevchenko. Sconfitta contro Hugo Humbert. Dove si è anche ritirato a Miami. Scusatemi per questa pronuncia. Ma. Seguo un canale. Che lo pronuncia in modo molto molto accentuato. Hugo Humbert. Così lo pronuncia. Io c'ho pure questa R. Moscia. O scena. Ma è un trademark. Ragazzi. A Baglia Luca. Perde il primo torno. Vince una partita di un challenger. Complice anche il ritiro del suo avversario. Poi perde contro Murray. Nel challenger francese 175. Perde contro Cacin. A Lione. Unica sconfitta. Unica vittoria a livello ATP. Con la partita pazzesca contro Baez. Non posso giudicare. Non posso. Perché veramente. A parte che ormai non ce la fa più. C'è proprio rotto fisicamente. Non. È. Ai noi. Ormai. È. È un rottame. Fisicamente parlando. Quindi. Un giocatore come la Moff. Un giocatore fantastico. Un giocatore intrattenente. Ormai purtroppo. Non lo vedremo più. Calcare. I campi di tennis. A livelli uguali. Ci aveva abituato. Che per carità. Sempre un intrattenito. Che si balla. Però. Ha livelli più alti. Di quelli odierni. Dei quali non vince la partita. Un giocatore. Al giocatore. Oggi forse nemmeno da challenge. È un infortunio che. Dal quale possiamo vedere chiaramente. Che rispetto all'ultima partita. Questo infortunio. È la metà. Di velocità. E. Ragazzi. NC. Non. Né più. Né meno. Non gli possiamo dare di più di NC. Non possiamo classificarlo. Più che altro. Questo è il discorso che vi faccio. Andy Murray. Goat. Perché è una leggenda. Quest'uomo. Una leggenda vivente. E con un anca di metallo. Compete. Compete. A livelli secondo me pazzeschi. Considerato che è un anca di metallo. Andy Murray. Gli diamo bene. Murray. In questo momento. Ventisettesimo. Nella race. Quarantaquattresimo. Al mondo. Classifico ufficiale. Ma virtualmente. Nella classifica live. Che in realtà è da domani. Quindi questa è la classifica ufficiale. Trentottesimo. Rientra nei quaranta. Dopo. Sei anni. Ha più di mille punti. Dopo. Sei anni. Ne è passato di tempo. Due. Tre titoli challenger quest'anno. Una finale ATP. Partiamo. Partiamo dei risultati. Terzo turno. Eroico. A Melbourne. Da Eroi. Ramonta. Ramonta. 2-7 a 0. Contro Berretti. Ramonta. Ramonta. 2-7 a 0. Contro Cocchinaghi. Seconda partita più lunga. Nella storia della strana open. 5 ore. 45. Di puro tennis. Poi. Contro Berrettini. 2-7 a 0. avanti. Due set di grandissimo livello. Poi Berretta la porta al quinto. Poi alla fine 10-6 nel tie break. Salvando anche il match point. Combo di Stagucci ha provato fino all'ultimo game dove ha avuto per la break. Però alla fine ha perso il quattro. Peccato. Sarebbe stato bello vederlo magari arrivare anche in semifinale con Djokovic. Poi contro Miedvedev perde la finale di Doha senza. Ma non senza aver lottato fino all'ultimo punto ragazzi. Murray è una leggenda. È un'icona per questo sport. È un ambasciatore per il tennis. Questo è un grandissimo termine. Ma è un ambasciatore. L'attitudine che ha in campo è di ispirazione. Veramente è una cosa pazzesca. Lotta su ogni punto. Un giocatore che è stato numero uno al mondo. Ma nonostante tutti gli acciacchi. Nonostante adesso si trova a giocare in Challenger. Nonostante questo. Nonostante l'altro. Lotta su ogni palla. Come la prima volta. Per questo ragazzi bisognerebbe dargli un premio. Però per quanto riguarda la stagione è bene. Perché comunque si ha due Challenger. Due Challenger ha vinto. Finale ATP. Cioè miglior stagione di Mario e da post infortunio. Due Challenger ha vinto a Sorbiton in Gran Bretagna. Ha vinto a Nottingham. Sempre in Gran Bretagna. Adesso giocherà a Queens. E poi credo che giocherà direttamente a Wimbledon. Io spero che Wimbledon faccia un gran risultato. Me lo auguro con tutto il cuore. Perché Sir Andy Murray merita qualcosa di grande indietro. Dal tennis. Dagli dei del tennis. Dopo tutte le sofferenze che ha passato. Si merita un gran risultato negli slam. Almeno secondo me. Poi passiamo al prossimo giocatore. Prossimo giocatore. Allora. Ve lo dico subito ovviamente. Lorenzo Musetti. Lorenzo Musetti. Allora. Inizio di stagione complesso. Complesso. Assolutamente. Non è stato un gran inizio di stagione. Quello di Lorenzo Musetti. Che in questo momento si trova in la posizione numero. 17 del ranking. E virtualmente 16. Al giorno d'oggi sarebbe una testa di serie a Wimbledon. E testa di serie di valore. Conque sia testa di serie. Prime 16. Quindi eviti i bestioni. Come li chiamo io. Fino al terzo turno. Inizia a valerne la pena. Perché. Ci sta sempre questo dilemma. Ma vale la pena essere testa di serie. O meglio non essere testa di serie. È vero che se sei non testa di serie. Rieschi di beccarti subito i fenomeni. Però. Se sei testa di serie. Dal terzo turno sicuramente li hai. Questo dilemma. Insomma va avanti da molto. Però. Già se inizia a essere testa di serie. Premi 16. Allora la cosa inizia a essere. Interessante. Sedicesimo nel ranking. Ries. Benetitresimo. Perché è in ritardo. Per l'inizio di stagione negativo. E complicato che ha avuto. Erba. Gran torneo a Stoccarda. Mette in serie difficoltà a Tiafò. Gran torneo a Parigi. Buon torneo a Roma. Madrid. Perde da Anfman. Così e così. Con un gran tabellone. Ci si poteva aspettare di più. Contro a Zizi. Passa a perdere i quarti di finale a Barcellona. Pretendo anche a. Come citato precedentemente. Pretendoci anche. Anche a Roma. Poi a Monte Carlo. Arriva ai quarti di finale. Dopo aver fatto tutto in un muro. Al mondo aver rifilato 2-6-0. Anzi 3-6-0 consecutivi. Cosa che poi non è riuscito ovviamente a. A Musetti contro Djokovic. Perché con Djokovic. 6-0-6-0. Non glielo dai. E anche se è il pregio Djokovic. Che esista mai. A Marrakesh. Per De La Müller. Inizio molto 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 complesso. Però alla fine adesso si sta riprendendo. Regà. Lorenzo. Non giocare sui teloni. Che tu devi giocare sulla rega di fondo. Che sei un fenomeno. Sei fortissimo. Se giochi sulla rega di fondo. Fortissimo. Fortissimo. Io l'ho detto. Io credo in questo giocatore. Forza Musetti. Parleremo del supercoach. Ormai ci siamo lotti un po' tutti. Anche nel salottino credo. E niente. Gran. Fino ad ora. Forse sarebbe anche un pochino più da me. Però. Gli diamo il bene. Gli diamo il bene. Stiamo riponendo fiducia a Musetti. Natal. NC. Tre partite. Quattro partite a giocato. United Cup. Contro Norri. United contro Norri. In realtà è stata anche 31 dicembre 2022. Quindi. Non nemmeno 2023. Però insomma. Conta nella stagione 2023. Contro Deminar. Poi. Primo turno con. Nostraen Open. Contro Trapper. E infortunio contro McDonald's. Io non credo che avrebbe fatto grandi cose in quest'anno. Sarebbe stato un grosso tipo di luce su terra. Se. Sarebbe stato ancora competitivo. Però. Fuori dalla terra. Non sarebbe stato competitivo. Anche giocando. Però. NC. Non ha giocato. Non lo posso valutare. Non lo possiamo valutare. Cameron Norri. Cameron Norri. Onestamente. Io lo dico. Perché. Ovviamente. No. Djokovic è un giocatore che fa. Che fa. I titoli. Quindi. Io. Onestamente. Norri. Me lo ricordo per. I problemi avuti con Djokovic. Più che altro. Ma ci sta anche. Allora. Vediamo in che posizione della race si trova in questo momento. Cameron Norri. Undicesimo della race. E fino ad ora. Buona stagione di Norri. Comunque sia. Non gli si può dire. Assolutamente niente. Live ranking. Si trova. Alla posizione sempre numero 13. Cosa ha fatto. Negli ultimi tornei. Contro Musetti. Ha perso a Parigi. Poi a Lione. Ha perso la Serondolo. Ha perso la Djokovic a Roma. Ha perso la Zenga a Madrid. Ha perso la Barcella. Da Musetti a Barcellona. Ha perso. Ha perso la Serondolo. a Monte Carlo. Poi ha perso da Barrera. Da Barrera a Miami. Ha perso da Tiafò. A Indian Wells. Ha vinto. Il Rio de Janeiro. Finale all'Argentina. Questi due tornei buoni tornei. Coppa Davis due vittorie. Austin Open terzo turno. Oakland. Finale. Nella quale ha perso da Richard Gasquet. Poi United Cup. Ha battuto Rafa. Ha battuto Fritz. Niente. Va in buono. Per il ranking andrebbe anche in Elite. Ma fino ad ora non è che abbia fatto chissà che cosa. Buono. Secondo me la classificazione adatta a questo. Bene. Bene la classificazione adatta a questa sua stagione. Fino ad ora non è che stia facendo chissà quanto. E onestamente buono è la posizione. È la classificazione più adatta a lui. Non gli do né più né meno di buono. Onestamente. Bene. Bene. Buona stagione fino ad adesso. Però non straordinario. Soprattutto con le due settimane a Buenos Aires e a Rio de Janeiro. Doppie sfide in finali con Alcaraz. Una vinta. Alcaraz è l'infortunio. Però comunque si è vinta. E l'altra persa. E... Alcaraz. Quest'uomo non so chi sia. Ancora. 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 Rallio pecca. Anc. Ancora. 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 Va tra i primissimi nel bene. poco svelto. Ancora. Ancora. Indian Wells. Perde da Félix. Giulia Sim. che poi verrà schiantato qua ha avuto anche match point se non sbaglio si è stato avanti 6-3 mamma mia dolorosa questa sconfitta in finale persa da Deminar ad Acapulco a Delray Beach perde da Albot inaspettatamente anzi molto inaspettatamente ha perso pure Madre poi gioca la storia in open dove arriva in semifinale e perde poi da Nole gran stagione questa qua da parte di Tommy Paul onestamente non mi sarei aspettato chissà non mi sarei aspettato tantissimo da lui e niente però ci ha stupito gran stagione gran stagione e bene e la classificazione pilatta bene ma molto bene c'è proprio posta in alto cioè sta tra il bene e l'elite l'elite non è mai bene bene grande semifinale soprattutto la storia in open Ramos Vinolas ragazzi Ramos Vinolas me barra male adesso vi elenco i risultati e forse cambierò anche opinione guardando i risultati Ramos Vinolas allora partiamo dai risultati di Ramos Vinolas ragazzi Albert Ramos Vinolas giocherà un challenger non giocherà sotto terra battuta e sta giocando questi challenger sotto terra un attimo per ritrovare il suo livello giocherà a Perugia giocherà a Montechiura Montechiargolo è un challenger italiano allora Roland Garros la giocata in doppio perde il promotuto da Stan Wawrink e Roland Garros perde da Varillas a Lione a Bordeaux perde da Eceverri a Roma perde da Alcaraz perde contro Locoli nel challenger francese perde contro Fuchina a Madrid perde a Barcellona contro Gomez perde da Struff a Monaco perde da Estoril a Estoril perde da Rodionov perde da Jusler a Miami perde da Molchan a Indian Wells perde da Santiago de Chile da Monteiro perde a Rio de Janeiro da Zapata Miralles perde da Carvalho Sbaena a Buenos Aires perde da Cordoba in Argentina perde da Cressi alla St-Open perde da Milman perde da Kubler perde da Evans fa da sé che va in me fa da sé che per me ragazzi non è inco perché inco è proprio anche considerando infortuni ma ragazzi non ha preso niente in questa stagione stagione negativa negativa quella di Ramos Vinolas finora onestamente non mi è affatto piaciuto e niente mi ricordo la partita con Alcaraz che ha giocato un buon set ma per il resto fino ad ora la stagione di Ramos Vinolas non è stata una gran stagione non è stata una stagione meritevole più di male perché non è una gran stagione questa non è una stagione mi aspettavo di più per quanto comunque sia pure lui non è più giovanissimo è tutto quello che vi pare ma almeno sulla terra battuta invece ha perso sconfitte su sconfitte su sconfitte in Spagna e no assolutamente stagione negativa fino ad ora Andrei Rubliov Rubliov che va in elite perché comunque sia fa parte dell'elite del tennis mondiale ha avuto una stagione meritevole dell'elite un Rubliov che però si è un po' fermato devo dire anzi si è fermato notevolmente brusca frenata dopo una grande 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 vittoria in quel di Monte Carlo in questo momento Rubliov si trova alla posizione numero 7 del ranking mondiale e in questo momento si trova nella posizione numero 7 anche nella race alle finals è una stagione a livelli di Rubliov però qualcosina in più dopo questo successo di Monte Carlo me lo sarei potuto aspettare vi dico la verità non mi è piaciuto come ha giocato a Parigi però ricapitoliamo i risultati di Rubliov partiamo dall'Australian Open Australian Open nel quale anzi prima dell'Australian Open che ha giocato più nell'Australian Open ha giocato ad Adelaide ai due torne di no ha giocato un torneo di Adelaide il torneo di Adelaide dove ha perso da Cocchina ha giocato un torneo di Adelaide dove ha perso da Bautista poi ha giocato al secondo torneo di Adelaide ha perso da Cocchina Aghis quarte di finale all'Australian Open dopo una vittoria con Bolesca su Rine grande grande torneo questo gran torneo per la finestra massacrata da Djokovic a Rotterd ha perduto da Andemino insomma inizio non proprio brillante a Doha perde da Lechka perde da Krain no che perde a Dubai perde da Miedvedev questo torneo diciamo che stancisce l'inizio della grande stagione all'inizio di un buon periodo di Rubloff perde da Norrie a Indian Wells perde da Sinner a Miami poi a Monte Carlo fa il torneo della vita praticamente batte in finale a Rine che secondo me sportivamente parlando si è suicidato aveva molte più opzioni aveva molte più carte in tavola non le ha giocate bene Rubloff alla fine è riuscito a batterlo questo grandissimo successo poi però come vi ho detto è rallentato un po' è rallentato un po' comunque sia però il mille di Monte Carlo la vittoria del mille di Monte Carlo alla fine è il torneo che spicca di quello di Rubloff il suo primo mille vediamo adesso se riuscirà a conquistare uno slam tesa vi dico la verità però comunque sia gran torneo quello di Rubloff un torneo grandissimo è un torneo fantastico batte del Lord Fritz che veniva dopo che veniva da un successo su Zizipas campione uscente doppio campione uscente veniva da un grandissimo successo sul campione uscente Zizipas come detto è successo netto tra l'altro letto netto poi poi l'ho abbattuto ovviamente Rubloff e poi ha battuto anche il Reune a rimonta allora a Madrid batte Vavrinka e arriva fino all'ottavo di finale contro Hashanov dal quale perde dopo l'ho battuto a Montecarlo Kashanov si perde la sua vendetta a Madrid e a Roma perde da Anfman e perde da Sonego a Parigi ha rallentato devo dire la verità vediamo adesso cosa avrà su Erb e soprattutto nello swing americano è là dove me lo aspetto a grande livello onestamente fino ad ora però grande annata che merita l'elite comunque sia Rubloff fa parte dell'elite del tennis mondiale ormai da un po' di anni a questa parte giocherà il 20 giugno contro Wibing campione di Dallas storia del tennis cinese primo storico vincitore ATP di nazionalità cinese scrive la storia della sua nazione in questo sport fantastico allora Holger Rune Rune pure secondo me merita l'elite Rune in questo momento si trova nella posizione numero 6 del ranking mondiale e per quanto riguarda la race lo troviamo anche qua anzi no qua al quinto posto addirittura comunque sia è uno degli indiziati è uno dei probabili qualificati alla race per le finals allora menzioniamo i risultati di Rune ovviamente qua ci interessa per quanto riguarda le Rune si parla di grandi squali di grandi giocatori di giocatori di alto livello allora esordiva sulla terra sull'erba come vi ho detto contro Maxime Cressi domani no vabbè non so oggi non so quando questo video era pubblicato questo video era pubblicato intorno al 20 lo sto registrando la domenica comunque sia non lo so vediamo batte non lo batte c'è da vedere che succede contro Cressi io non lo so ancora magari voi già lo saprete allora Parigi quarto di finale bella vittoria con secondo loro gambolesca però è un po' strano che era quello stanco alla fine che era stanco perché una vittoria a tavolino e contro secondo loro al quinto sette sei più stanco strana questa cosa forse ha sprecato troppe energie nervose non lo sapremo mai comunque sia aperta da Rude in 4-7 nella battaglia a Scandinavia nei quarti dei Roland Garros arriva in finale a Roma dove perde da favorito contro Daniel Miedvedev poi perde da Davidovic Fokina a Madrid come detto precedentemente menzionato precedentemente nell'analisi della stagione di Davidovic Fokina poi perde da Vindes vince contro Van de Zand scolpi in finale di Monaco conferma il suo titolo nella no non è no la capitale la capitale tedesca è Berlino ci sto pensando adesso perde nella perde da Van de Zand no vince mannaggia a me contro Van de Zand scop dopo dopo aver salvato match point credo anche nella finale di Monaco poi perde in finale anche oltre alla finale mille persa a Roma perde anche a Monte Carlo non un grandissimo cioè un grandissimo non una grandissima finale dopo quel primo set soprattutto nel terzo set che spettivamente parlando secondo me ha fatto una gran frittata poi perde da Fritz a Miami perde da Laurinca a Indian Wells in una partita sicuramente tesa dagli animi tesi perde contro De Minar nella semifinale nel torno di Acapulco poi perde da Brewer ritirato a Rotterdam perde a Montpellier da Cressy poi stavo dicendo perde da Rublyov nel quarto turno dell'Australian Open e ad Adelaide perde da Nishioka comunque sia gran stagione grande grande stagione si conferma sul livello del 2022 di fine 2022 anzi ancora meglio quinto posto nella race sesto posto nel ranking meritevoli per un grande grande tennista allora Elpeke Diego Schwarzman incubo ragazzi che che disastro come fa la canzone di Amedo Preziosi che disastro che disastro assolutamente assolutamente lasciamo stare cioè non posso lasciar stare perché sto facendo un video incentrato su questi 50 però parliamone allora Schwarzman tra l'altro qua non ci sta Stroff ragazzi e Stroff ragazzi va in bene ve lo analizzo virtualmente dopo allora giocherà la Queens contro McDonald's insomma questa è una sconfitta non è che non ce ne è meno da discutere sarà una sconfitta verosimilmente terzo turno a Roland Garros come vi ho detto risultati calanti semifinale 2020 quarto rifinale 2021 quarto turno 2022 terzo turno nel 2023 quindi risultati sempre più incalando terzo turno del Roland Garros dove vince dove perde da Stefano Stizzi pazientemente dopo due buone vittorie nei primi due turni poi a Lione perde il primo turno perde il primo turno a Roma perde il primo turno nel Challenger di Cagliari perde la partita contro Weaving poi perde nettamente da Sinner a Barcellona poi perde qua disastro contro Sinner a Monte Carlo poi perde da da Cecchinato perde da Rune Cecchinato e Stronil Rune a Miami perde da Borges a Phoenix perde da Rude a da Rude a Indian Wells basta questa pronuncia Bertolucciana cioè Bertolucci non pronuncia Rude così però Rune così ma mi piace a me Rune così mi sono fissato ormai Rublof non è un'arte di Bertolucci che probabilmente sarà anche giusto Rune e Rublof però insomma vista la pronuncia che è stata ormai data ai cognomi di questi giocatori fa sorridere sentire queste pronunce diverse queste pronunce che hanno una fonetica diversa una fonnogia diversa probabilmente sicuramente anzi comunque sia perde da Rude a Indian Wells in 2 set ce lo potevamo aspettare perde da Giari a Santiago ragazzi un disastro perde da Lai Vecere de Janeiro perde da Sapata Mirai perde da Segundolo perde da Gigi Wolf dopo cioè disastro disastro c'è poco altro da dire c'è poco altro da dire se non incubo più totale fuori dai 100 qualificazioni ragazzi lasciamo stare questo 2023 per Schwarzman a livello tennistico si sta rivelando un vero e proprio incubo disastri su disastri sconfitte su sconfitte chi è Costui che adesso dobbiamo valutare non lo so non mi viene in mente vi chiedo scusa perché non so chi sia costui però vabbè dopo la fine dopo aver fatto tutti i giocatori fino a rude vi dirò chi sono questi quattro vi farò anche le loro valutazioni Denis Shapovalov mamma mia ragazzi pure Shapovalov c'è della serie tocchiamo un tasto dolente 27esimo al mondo live ranking 29esimo in realtà 27esimo perché alla fine ragazzi contano i ranking di questo non è di quindi il 27esimo per voi tocchiamo tocchiamo un tasto dolente un tassello dolente ragazzi perde contro Fusciovic a stopperato terzo turno contro Alcaraz massacrato sotto categoria perde da Zanga a Madrid perde da Zizi da Zizi passa a Parcellona perde da Frezza a Miami perde da Humber da Hugo Humber non so come si dica come lo dice quel ragazzo là Tennis Pure Nightmare si chiama andatelo a seguire è simpatico poi perde da sto facendo spam ad altri canali ma ci sta così funziona andate a seguire Alessio Tennis Passione Tennis Di Venno The Sports e Martino 99 ovviamente io ovviamente io la prima cosa è mettere iscrizione a me gli do bene per l'egoismo però ragazzi questo video è sul mio canale poi mettetela anche a loro fondamentale anche ho tanta passione pure di Alessandro faccio spam a tutti ragazzi a tutti i canali che mi piacciono i tennis faccio spam ma iscrivetevi ai canali di tennis che sono pochi pochi ma buoni mi auguro che anche al mio oriente tra i buoni speriamo me lo auguro ovviamente sta a voi trarre le vostre conclusioni non sta a me autovalutarmi sì mi autovaluto ma non in video non trovo questo l'ambiente giusto nel farlo io sto facendo di tutto non lo faccio apposta ma sembra che sto facendo di tutto per far arrivare questo video a due ore così giustamente me lo vedono ancora meno perché fin quando ci sta l'ora almeno mentalmente pensi un'ora anche se un'ora 59 è 59 però già con gli stessi due ore questo è un film non è un video allora parliamo perde da Fritz a Miami perde da Umber a Andy Wells perde da Fritz a Capulco perde da Dele Rebic da Mo mamma mia che disastro perde da Dalla perde da Weaving a Dallas per futuro campione perde da Hubiur a Melbourne perde da Djokovic da Dele Ate ragazzi disastro su disastro su disastro non è da Incubo perché qualche vittoria l'ha raccimulata Incubo sono Berrettini e Schwarzman che sono stati un disastro completo totale totale però male malissimo sarebbe malissimo non va in Incubo perché non è Incubo ma malissimo ci sta tutto Jannik Sinner giocatore facente parte dell'elite mondiale eh ma ha giocato male a Roma eh ma ha giocato male a Parigi eh ma ha giocato male a Libem Open continuate cioè non dovete non dovreste parlo ragazzi quando hai hater significa che stai avendo successo oddio questa è un'altra filazione motivazionale quindi prendiamola con le dovute pinze però quando hai hater sotto un aspetto significa anche che stai avendo successo perché ci sta qualcuno che è bidioso di te sotto certi aspetti ma lasciamo stare questo discorso stagione di Sinner allora risultati della stagione di Sinner prendiamo subito Yannick Sinner Sinner prendiamolo subito in considerazione numero 9 al mondo in questo momento live ranking anche qua numero 9 ma live ranking di che questo video voi lo state vedendo quando è numero 9 ma mannaggia me lasciamo stare numero 9 al mondo Yannick Sinner numero 9 al mondo questo giocatore giocherà domani ad Halle contro Richard Gas che è una partita che non sarà semplice sicuramente allora l'Ibema Open perde da Rusevore dove avrebbe tutto Publique perde da Altmaier a Roland Garros perde a Roma da Serondolo perde a Bascione da Musetti si ritira per via di un affaticamento muscolare sembrava essere poi perde da Rine a Monte Carlo poi perde da eh questa questa fa male questa fa male perde da Miede dove in finale a Miami perde in semifinale contro Carlitos Alcaraz a Indian Wells poi a Rotterdam perde in finale con Miede vince Montpellier quarto turno con Tozzizipas che ha rischiato anche di rimontare 2-7 poi nel quinto Tozzizipas ha avuto qualcosa in più ad Adelaide perde da corda causa anche problema fisico se non vado errato e niente però grande stagione secondo me questa è una grande stagione quella di Yannick e finora si è dimostrato essere un gran gran tennista e secondo me un tennista che fa parte dell'elite mondiale per questo classifico in tale categoria merita questa classificazione un giocatore degno di questa classificazione una stagione degna di questa classificazione per me la merita onestamente qualcuno dirà mettilo in bene non credo però onestamente credo che la categoria adatta sia elite se ci ho messo Fritz e Kachano che stanno avendo stagioni a suo pari ci devo mettere anche Sin bella stagione questa di Yannick io continuo a sopportarti dobbiamo continuare a sopportare questo tennista io lo so che ha spregato tante chance ma ragazzi prima o poi ce la farà e secondo me ce la farà nel modo più improbabile quando ti arriverà quel tabellone che hai che hai quello che hai rinno a quarto turno perché non sei prima di essere di serie che hai Djokovic che hai Alcaraz che hai Djokovic che hai Mielbedev e poi in finale Alcaraz li batti tutti di fila a fairy tale came to an end and now is going to be like a rocket in the space through the atmosphere no one is going to ever stop him again chi ha capito questa frase la scrivo ovviamente solo i veri tenitori in inglese ieri è uscito anche i video in inglese ovviamente i video in inglese immancabili non possono mancare in nessun lunedì ogni lunedì video in inglese non dimenticatevelo sto iniziando a smattare visto che sto registrando da un'ora e 25 minuti è mezzanotte 06 chi vede questo video mi dirà ma vai a quel paese ci hai fatto vedere un film e ha fatto pure defecare e mi capisco Francis Diafo che oggi proprio ha vinto a Stoccarda primi 10 al mondo ragazzi fa parte anche lui dell'elite mondiale fa parte anche lui del bene sta proprio in quel mezzo che non so dove metterlo aiuto dove lo mettiamo Big 4 for the open ah non lo so non lo so un attimo un attimo fatemi valutare un attimo raga valutiamo quello che ha fatto Big 4 ragazzi in questo momento è il numero 12 nella race è il numero 10 al mondo dove sei va bene ma sta proprio dai primissimi primissima fila primissima proprio il primo sta là 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 sta là là per entrare nell'elite per battere questa barriera questo scoglio per superare questo scoglio per Tafo ragazzi però sta avendo una gran gran stagione questo ragazzo due titoli primi due titoli primi titoli a tp dopo nel 2018 due vinse a delerai beach battendo il suo idolo credo qua a martin del potro giochera contro van de zand sculpe contro van de zand sculpe a quince partita ostica forse il peggiore avversario che poteva incontrare a stoccar da battestruf fuciovic musetti e l'esca poi perde da zver valterzuno e roland ross perde da musetti a roma perde da cascina a madrid perde da risuvorri a barcellona perde no vince houston torneo caratterizzato dalla pioggia poi continuiamo perde da miami da sonego no ragazzi non lo posso mettere in bene in elite per quanto stai facendo una grande grande stagione però comunque si ha due titoli a tp250 non è capito in questi grandissimi risultati poteva fare qualcosina in più comunque si ha tiafo non è fede poi perde perdami a tp2 indian wells in semifinale questo il miglior risultato in un torneo di questa portata poi perde da fritz ad acapulco nei quarti di finale poi perde da gg wolf a dallas perde da hashanov a melbourne e nelle australian open bene united cup vince contro musetti vince contro zuc vince contro evans vince contro otte e contro mashac no contro mashac l'anno prima vabbè comunque sia 30 dicembre 2020 fa parte della stagione 2023 alla fine alla fine dei conti un'ora 25 abbiamo raggiunto la storia di un'ora 25 di registrazione mi stai odiando ma fate bene non è che fate male sono mal sano zizipas allora zizipas gli latini dicono corpo sano mente sana io dico corpo non sano mente non sana inventiamoci questo detto sul momento stefanos zizipas 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 fa parte dell'elite mondiale dell'elite del tennis per quanto per quanto dopo lo strano non è che abbia tenuto chissà quale risultati però 5 al mondo 5 nella race domani gioca contro barrer tanto intanto avete visto la storia d'amore tra zizipas sebatosa colpo da 90 da parte di stefanos zizipas ecco sto iniziando a smattare quando inizio a parlare di relazioni tra tennisti significa che il cervello ragazzi sta iniziando a smattare niente ragazzi zizipas l'ho messo si l'ho messo in elite ragazzi zizipas merda l'elite c'è poco da dire c'è poco da dire assolutamente per quanto mi riguarda zizipas merda l'elite resto della mia personalissima idea ma credo che siate d'accordo anche voi risultati finale allo Stadion Open persa da Djokovic prima protogioco di United Cup batte Matteo Berrettini poi precedentemente batte Borna Koric poi batte David Goffin batte Gregor Dimitro 2022 in realtà datata 2022 però è più 2023 quindi è l'elite di stagione tennistica insomma c'è da capire in che anno va ma comunque sia vittoria perde da Zizzi da Sinner a Rotterdam perde da Thompson a New Wales perde da Hashanova a Miami perde da 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 Fritz malamente a Monte Carlo perde da Alcaraz in finale a Barcellona perde a Madrid da Struff perde da Miedvedev a Roma non è che abbia fatto chissà quanto bene rispetto ai anni passati sulla terra battuta ci saremmo aspettati di più poi quarti di finale a Roland Rosmiglior al quarto come l'anno passato ma contro Alcaraz è stata un'umiliazione poi però un po' una ribellione la sconfitta gli ultimi 4-5 game e un calo di Alcaraz lo hanno portato ad arrivare fino al tiebreak ma non sono bastati alla fine per farlo vincere almeno sempre buona vittoria e buona vittoria buona vittoria questo affuso di testa perde contro Caschia Stokkar adesso contro Barer su Adalle nel territorio sempre tedesco altro francese vediamo che farà vediamo sono curioso Zverev mamma mia ragazzi mi direte ma fate bene Sasha Zverev Zverev è un po' l'incognita è un po' la minna vagante di questo 2023 in questo momento nella race si trova alla posizione 14 perché comunque sia dopo che ottieni una semifinale slam sale di posizione che ha armonizzato questa sua stagione l'ha resa più rosa questa sua stagione allora partiamo dai risultati di Sasha Zverev che giocava contro Dominic Thiem partita che fino a 20 anni fa no ragazzi ma mi rendete conto in che stato sto io fino a 3 anni fa era finale slam adesso si parla di fino a 2 anni fa era semifinale di Numastas 1000 adesso è un primo turno in un 500 Zverev che è testa di serie numero 8 o 9 non lo so 9 che perde e vince cioè si giocherà contro Thiem verosimilmente vincerà vi ripeto probabilmente perché verosimilmente è un'associazione però assolutamente è una partita da vedere Ruud perde in semifinale da Ruud da Roland Garros perde in semifinale da Jerry al 2.50 di Geneva perde da Roma perde a Roma da Miedvedev perde dal Carassa a Madrid punto più basso che ha toccato nella carriera secondo me perde da Granier a no perde vince quanto Granier basta basta sbagliare perde da Oconnell a Monaco perde da Miedvedev sempre a Monte Carlo perde da Daniel Tarodani a Miami perde da Miedvedev a Nian Wells perde da Rublo vince in finale a Dubai perde da Murray in a Doha perde poi perde a Rotterdam da Gregspur poi perde da Usler in Coppa Davis perde da Mo in Nell'Austrian Open poi perde da Fritz in United Cup perde da Leic in United Cup bene bene ragazzi però se continua come Roland Ross torna negli elite sicuramente torna negli elite del tennis mondiale senza alcun tipo di dubbio 14esimo della race sta pian piano tornando al suo livello ce lo potevamo aspettare che non avremmo ritrovato subito lo sverbe dei tempi migliori me lo aspettavo credo che la maggior parte di noi ce lo aspettassimo ed era probabile che accadesse ciò di conseguenza giustificato i premi mesi negativi adesso però sta iniziando a riottenere un certo livello vande vande zandsculp botic vande zandsculp allora valutiamo botic vande zandsculp sta giocando più doppi che singolari in questo momento si trova la posizione 34 del ranking best ranking di 22 e allora valutiamolo gli domani per il momento di silenzio risultati alla mano giocherà contro diafo a a quince con perde perde da tirante a roland grossa perde da giri a roma perde da kartzev a madrid perde da rine a monaco perde da rude a monte carlo perde da ocone la marrakesh perde da rusuvori a ma i miami perde da miami batte anche rude sua vittoria migliore dell'anno per quanto casper rude di allora non era ai livelli del casper rude attuale perde da ivashka ritirandosi dal torneo perde da ivashka e nian weds poi però giocherà il doppio strana questa cosa anche se il doppio meno dispendioso è a livello di energie fisiche poi perde a dubai da rublio perde a perde da miller a dorham perde da rotterdam da medvedev in ottavi pensavo dopo poi perde al secondo turno alla strana open e perde nelle semifinali a pune e niente ragazzi me me non ci siamo non è stata una grassa stagione va anche quasi più male non ci sono state risultati rilevanti qualche buona settimana quella gli diamo me perché non è che ti aspetti chissà 4 da un giocatore come Bottice Van de Zanskulp però ragazzi qualcosa in più avrebbe anche lui voluto fare Casper rude e poi provo a vedere chi sono gli sconosciuti gli sconosciuti a me ah questo ragazzi è Rusovori ma come ho fatto a non capire che questo è Rusovori Emil Rusovori buonanotte sogni d'oro è giustamente insomma l'orario è quello rude eeeh calmiamoci eh calmiamoci so che storcere rude ragazzi ottavo nella race grazie alla finale a Parigi e quarto nel ranking ATP ragazzi a Madrid dai assolutemi a Roma a Parigi grandi tornesi in finale a Roma e in finale a Parigi capite pure voi che però una stagione nel quale è stato un fantasma d'altronde si chiama Casper è una stagione che è stato un fantasma per quanto la finale a Parigi per carità sia un risultato monstre i ragazzi non posso metterlo in Elite lo metto qua capito così tipo qua ci stanno questi tre tre primi top lo ordinei molto bene è molto vicino all'Elite e dopo qualche 250 classico di rude su terra quest'estate ce lo metto in Elite però ancora Elite per quest'anno no fino ad ora finale a Parigi pazzesco il risultato finale a Roland Garros poi semifinale no quarto di finale a Geneva semifinale a Roma questo grande risultato molto molto bello ottimo risultato perde da Arnaldi al Madrid capite che voi però non posso mettere l'Elite perché perde da Arnaldi al Madrid vabbè il torneo prima dello Slemi 2.50 di Geneva passiamoci sopra perde a Monaco da Struff batte per carità vince Storilla un 2.50 però non popolato da giocatori di caratura elevatissima perde da Van de Zand sculpa a Miami difende la finale perde da Karina and Ian Wells vince contro Schwarzman ci manca solo che perde con Schwarzman capirete perde da Dani da Capulco perde da Grosby con 90 d'oro che non forzate allo Strain Open perde da Gerard Oakland perde da Berrettini a la United Cup ragazzi non posso mettere l'Elite per quanto la finale a Parigi sia un risultato pazzesco ma più di l'Elite più ragazzi più di questo non posso mettere categorie alta di bene ma più di quello non può andare Emile e Rusovori allora Rusovori per quanto poi probabilmente si qualificherà pure alle Finals Rusovori in questo momento si trova alla 44esima posizione mondiale giocherà conto Gregor Dimitrov a Queens dopo aver battuto dopo aver battuto Sinner e dopo aver battuto prima Nakashima e Umber poi perde da Dimitrov nettamente a Roland Garros perde da Miedvedev a Roma perde da Carlitos a Caras dopo averlo messo in tremenda difficoltà infatti ha avuto delle palle preche che potevano essere decisive a inizio secondo sette alla fine non sono state esportate e il momentum l'inerza del match si è spostata dalla parte di a Caras come sia lo mette in sé in difficoltà poi perde da Umber a Madrid come Umber a Madrid no contro Umber a Madrid ci vince scusatemi perde da Fuchin a Barcellona perde da Lechka a Monaco a Monte Carlo poi perde da Sinner a Miami nei quarti di finale nettamente perde da Ailes nel Challenger di Phoenix perde da Zvereva a Indian Wells perde da Lechka a Doha perde da Stefan Noss e Zizi passa a Rotterdam perde da Cressy a Montpellier perde da Rublyov alla Strenopen perde da Imer a Delayed 2 perde da Bonzi a Pune il ragazzo è ancora molto giovane ragazzi non è che abbiamo visto chissà cosa me gli diamo me più di questo secondo me non rientra non ha il livello di giocatori come quelli in bene non gli dop di me non è che ci potessimo aspettare chissà che cosa però non lo metti in bene adesso vado un attimo a vedere chi sono questi 4 sconosciuti datemi un attimo di tempo ragazzi mi dispiace ma non capisco chi siano questi 4 scrivetemelo nei commenti e niente questa è la mia top 50 del 2023 ma mi sa che ho sbagliato perché non so se è il 2023 onestamente però facciamocelo andare bene non è stato uno dei miei migliori video è stato il mio più lungo sicuramente vediamo io vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video pagina da Strouf ragazzi Strouf lo metti in bene grandissima annata fino ad ora di Strouf e mi ha sorpreso onestamente io stagione per distacco della sua carriera grandi risultati da Monte Carlo poi un attimo dove si stava anche bene mi hanno dimenticato questo è il mio ordine questi sono come gli ordinati ho cambiato Urkac e l'ho messo in bene perché comunque sia il 19 sia la race dai l'ho alzato a bene e niente un'ora e 40 di video non sono pienamente soddisfatto vi dico la verità non so nemmeno se lo vedrete perché adesso devo vedere a quanto risale questo top 50 perché io avevo visto 1 aprile ma se questo è 2022 io sono un co l'avete capito lo rifaccio perché onestamente non mi va bene nel caso in cui lo stiate vedendo ringrazio per la visione lasciate un bel like iscrizione attiva la campanella condividete i video più possibili commentate vicino a spiegare la vostra niente ragazzi grazie di cuore ci vediamo come sempre con un nuovo video ciao